Ritornato a casa per le vacanze di Natale, come potete vedere dalla cornice che è diversa da quella londinese sto facendo appunto un revival di tutti i cd, sto ascoltando tutto quello che mi è possibile ascoltare in questo periodo e sto anche riprendendo dei dischi, dei bootleg come questo qui che sto ascoltando spero si sente in sottofondo con un Axl Rose veramente sguaiatissimo mi è venuta la voglia di riascoltarlo dopo tutte queste voci di reunion che tra l'altro sembra che si faccia perché insomma ci sono sempre più indizi che portano su quella strada dal trailer, scusate sto cercando di trovare un equilibrio perché sono col telefono, con mezzi di emergenza trailer nei cinema americani di Welcome to the Jungle oppure il logo nel sito Cancer Roses che è cambiato, è ritornato quello vecchio, quello di Appetit to Destruction i diretti interessati che non hanno mai smentito queste voci chi conosce la band dice sì questa cosa si farà quindi si farà, vabbè sto tergiversando non so in realtà cosa voglio fare, volevo parlare a metà fra queste reunion e vedere questo bootleg unplugged tra l'altro che è edizione tremenda perché c'è questa copertina che è il logo quindi ok, c'è il Super Value che era Super Value qui purtroppo ho una mano occupata quindi ho difficoltà Super Value che era marca di fabbriche della On Stage Records comunque bootleg che non si sentivano affatto male hanno una resa sonora discreta mentre a volte quando... sapete cosa sono i bootleg, vero? sì, penso di sì vabbè, lo dico giusto per tutti coloro che non lo sapessero sono quelle registrazioni non ufficiali che si usavano credo fino a metà anni 90, 95, 96 poi sono stati resi... non erano legali ma poi sono stati resi ancora meno legali quindi li hanno tolti dalla circolazione quindi chiunque aveva un'etichetta registrava il concetto di Tizio Caio e faceva bootleg di Tizio Caio live a Pompei o a mercato d'ortofrutticolo questo è un live di Ganser Roses live unplugged, recorded live in USA quindi molto dettagliato quindi recorded live in USA non si sa quando, dove... no, dove si sa, negli Stati Uniti ma non è molto dettagliato questa è la scaletta, è il retro della copertina che è terribile perché, prima di tutto, c'è un po' di riflesso prima di tutto c'è Slash che suona un assolo micidiale quando è un unplugged, tutto molto più rilassato e non c'è quella chitarra e poi la foto è pure sfocata quindi è proprio un'immagine brutta le scritte gialle sono brutte tutto è brutto il libretto è inesistente perché c'è questa grafica dietro e poi dentro si apre una pagina ma è bianca, non c'è nulla comunque, questi sono i bootleg della onstage che ho sempre pensato comunque perché faceva prodotti di qualità non rimanevi mai deluso mentre a volte compravi dei bootleg veramente, li prendevi, li dovevi buttare o li tenevi giusto per collezione questo bootleg l'ho sempre ascoltato molto con piacere perché ci sono i guns un po' in versione differente a parte i patients che stiamo ascoltando che abbiamo ascoltato in diverse salse qui ci sono You Ain't The First canzone di You's Illusion 1 c'è One In A Million Mr. Brownstone e molto dei siti in versione acustica che sono abbastanza rare da trovare quindi sì, niente non volevo dire niente in realtà volevo farvi vedere questa cosa volevo parlare delle riunioni dei guns devo dire altro non sarà che ci sono vi faccio vedere qualche altro bootleg questa è la mia collezione questo è il bootleg live in Tokyo che non è altro che il sempre della... no questa è della Big Music sì, non è altro che la riproduzione in CD delle VHS ai tempi poi DVD come si chiama? User Illusion sì delle videocassette live in Tokyo quindi User Illusion 1 e 2 che sono uscite in separata sede giusto per farmi spendere ai tempi credo 30.000 lire cada una quindi 30 più 30 poi mi sono portato anche il bootleg perché quel concetto mi piaceva tanto e non so anche qui penso di aver speso abbastanza e poi come altri bootleg non ho granché ho solo quest'altro un altro della On Stage con... non c'è scritto Super Value qui è chiamato November Rain non so perché un bootleg si deve chiamare November Rain questo è il retro questo è il live in Paris credo sì è live a Parigi è metà fra live a Parigi e live in USA mi piace quando si chiede USA che vuol dire USA? c'è un territorio vastissimo USA quindi alcune tracce sono presi da live in Paris sì cose particolari no c'è il Godfather forse mai mi scegli che non è un pezzo che facevano molto molto di frequente durante l'User Illusion Tour comunque questo è quanto non volevo dirvi niente in particolare a parte questi farvi vedere questi tre bootleg di Guns e sperare di una reunion ma non per cioè io non ho nessuna aspettativa credo che si faccia però non ho nessuna aspettativa dal punto di vista della qualità del materiale io credo che non lo so certe cose vadano fatte quando si è giovani e quando si abbia lo spirito adesso non credo che se Slash e Axe si mettono insieme a scrivere della musica possano uscire quei capolavori che sono usciti inizio anni 90 o fine anni 80 quindi boh speriamo speriamo bene comunque quantomeno di vederli live giusto per i vecchi tempi anche se Axe si è fatto vedere cioè non si è fatto vedere ma tramite twitter una non so chi una fan credo abbia postato una foto con lui che è praticamente un baule sapevo che si era messo a dieta ma evidentemente o non l'ha fatto o non sta riuscendo male oppure era ancora più grosso di quello che si vede adesso quindi comunque io li andrei a vedere giusto per per amore dei vecchi tempi per rivederli insieme dato che li ho visti separati ho visto sia Guns and Roses Guns and Roses nuova edizione che che Slash due o tre volte no due volte con Miles Kennedy niente questo è quanto quindi restate sintonizzati su GivenTurocco per sapere su eventuali reune vabbè non c'è bisogno che stiate su GivenTurocco perché quando ci sarà una notizia sarà penso anche dal panificio parlavo anche della gazzetta dello sport tempo fa quindi guardate che risonanza potrà avere questa notizia questo è tutto il pubblico invisibili per la fine della recensione ciao e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti